Ergastolo ai killer di Antonio Landieri, vittima innocente della prima faida di Scampia. L'omicidio del 25enne invalido avvenne durante la prima guerra. Ieri in tribunale il giudice ha emesso tre condanne esemplari con un verdetto comunque duro per i pentiti. 13 anni dopo, lagguato ai sette palazzi, arriva la condanna e un pentito racconta «Era un bravo ragazzo, accadde un macello». Venne colpito per errori alle spalle, eletti di Secondigliano, ammazzato senza un motivo e senza alcun coinvolgimento con i fatti di droga e camorra. Tentò un'inutile fuga, ma purtroppo venne raggiunto dalla pioggia di fuoco. È stato il GIP Giovanna Cervo a firmare le condanne per i killer Giovanni Esposito, Davide Francescone e Ciro Cagliazza. 17 anni e 4 mesi per i due collaboratori di giustizia, Gennaro Notturno e Pasquale Riccio. A soluzione piena invece per Cesare Pagano e Giovanni Piana. Il reale obiettivo del raid dovevano essere i fratelli Meola, che controllavano la piazza di spaccio dei sette palazzi. Nei primi mesi Antonio Landieri venne indicato come un affiliato, un palo della piazza di spaccio. Dolore che si aggiunse al dolore per i parenti. E poi il tentativo di comprare il silenzio della famiglia della vittima con i soldi. Intanto la camorra, la malavita. A Napoli non si ferma. Stamani all'alba paura a Miano. Alle 5 spari contro un bar. A Raffica almeno 8 i colpi refertati.